ciao a tutti bentornati questa è la puntata clou della nostra giornata oggi parleremo delle 5 gold a rio le 5 regole d'oro che se messe in pratica faranno un'enorme differenza di qualità nelle vostre slide andiamo a vedere meglio queste non sono regole che ho inventato io anzi c'è una fonte molto più terribile è questo signore qui david phillips che è un maestro indiscusso per che riguarda la comunicazione ma soprattutto per che riguarda la presentazione al pubblico tra gli innumerevoli lavori e video che troverete in giro vi consiglio questi tre che sono tratti da tre tedx diversi sono molto brevi e cui il primo tratterà un po quello che saranno le slide successive e che cosa vi spiegherò e guardate bene il titolo di questo video è emblematico si chiama come evitare la morte da powerpoint quando le ciance andiamo a vedere qual è il succo il succo è fare evitare al massimo una la fatica mentale i vostri spettatori fatica mentale che vuol dire alla lunga disattenzione e noia cominciamo con le regole prima regolona un messaggio sì il nostro la nostra mente funziona una maniera singolare e purtroppo funziona così può mettere a fuoco può gestire può concentrarsi solo su una cosa alla volta per cui un messaggio al massimo per slide questa è una slide che ho creato fittizia col metodo diciamo sbagliato di buttare un chilo di testo lì aspetta che mi tiriamo via così la vedete bene eccola qua e che riguarda tinkercat che è un software di cui ho fatto una serie di video all'interno del canale li trovate come vedete qua ci sono due messaggi e la nostra attenzione continua ad andare dal primo secondo dal primo secondo la cosa più semplice è tirarne via uno e mettere il secondo ovviamente in un'altra slide regola molto semplice fatelo regola numero due chi legge partiamo dalla dalla dizione più semplice che esiste uno più uno ovvio che faccia due però purtroppo per noi a volte il risultato è questo nullo perché se avete una slide piena di testo come quella precedente e quindi imponete ai vostri spettatori di leggere e contemporaneamente avete la pessima idea di leggere anche voi e quindi imponete anche di ascoltare quello che loro capiranno e si ricorderanno è esattamente questo nulla facciamo un esempio questa è una slide classica ponendo già attenzione sulle regole precedenti potrebbe essere facilmente trasformata in una slide come questa ed è ovviamente migliore e inutile che ci facciamo commenti oggettivamente lo è quindi questo è già un modo di come usare meglio le presentazioni ma questa slide verrà poi sicuramente migliorata con le regole successive andiamo a vederle effetti visivi l'occhio umano è il nostro organo di difesa migliore per cui ci avvisa dei pericoli in modo da poter fuggire facilmente ed è sensibile come l'attenzione visiva quindi umana a quattro cose di cui tre le vedremo adesso la prima le prime di queste sono oggetti in movimento la seconda sono oggetti con colori sgargianti come quelli che vedete in questa slide e la terza sono oggetti grandi dovete usarli assolutamente questi tre effetti per direzionare l'attenzione del pubblico su quello che volete far vedere vi faccio vedere una cosa riguardante le dimensioni questa è la slide precedente e come notate la parte più grande è la parte del titolo come spesso succede perché perché anche ad esempio nei modelli di powerpoint è normale che il titolo abbia dimensione maggiore ma sappiamo che le cose più grandi dovrebbero essere più importanti e nel caso delle slide non lo sono questo sarebbe un modello giusto per la carta stampata ad esempio per i giornali perché attraverso i titoli giornali sfogliando la rivista noi possiamo individuare gli articoli su cui soffermarci ma qui no voi dovete soffermarci su quello che decido io il presentatore e quindi di conseguenza non avete questa problematica e normalmente sapete già di cosa si tratta per cui l'importanza in realtà dei titoli è molto relativa per cui cerchiamo di aggiornare la slide a seconda di quella che è proprio l'importanza degli elementi in campo facendo così limitando proprio la dimensione del titolo vedete subito che la vostra attenzione dovrebbe essere stata spinta un po di più sulla parte sottostante arrivediamo da così a così questo è un metodo semplice per utilizzare uno degli altri effetti però attenzione perché perché tutti questi effetti possono essere molto utili per gestire l'attenzione su alcune parti in particolare primo non abusatene perché comunque sono degli impulsi molto forti verso il nostro cervello e alla fine stancano alla lunga se sicuro lo fanno ma poi soprattutto possono direzionare erratamente la vostra attenzione l'attenzione dei vostri spettatori sullo schermo anche quando state parlando voi quindi occhio io chiamo questo effetto effetto tv dietro immaginate di avere una persona molto importante cui dovete dire delle cose che invitate a cena che invitate nel locale lo fate sedere di fronte a voi avete fatto tutto in maniera perfetta ma non vi siete accorti che dietro tv di voi c'è una tv accesa molto grande e quindi in conseguenza con molti oggetti in movimento e con tanti colori sgargianti è ovvio che il vostro interlocutore sarà spesso distratto da quella tv per evitare questo effetto durante la presentazione e sopra un palco vi dico alcuni dei consigli che mi sento di darvi ritorniamo qui per evitare questo dicevamo la prima cosa è di non mettere oggetti in movimento animazioni che continuano a essere in movimento anche finché parlate la seconda è molto semplice usare colori tenui sfondi scuri soprattutto non sfondi bianchi anche questi sono gli sfondi che di solito i modelli powerpoint vi portano ad utilizzare ma attenzione perché prima di tutto stancano e lo vedete anche con le applicazioni nuove che hanno quasi tutta la possibilità di uno sfondo nero e poi ovviamente essendo molto più luminosi di voi portano l'attenzione sullo schermo e non su di voi per evitare questo ci sarebbe un metodo molto semplice e poco usato usare il tasto b da tastiera in tutti questi software il tasto b da tastiera fa spegnere immediatamente annerire il vostro schermo e potete utilizzare anche se no nei telecomandi quelle per presentazione quelle per link il tasto opposto che di solito si chiama pause o black e usando quello lì immediatamente il vostro pubblico appena si spegne il monitor direzionerà lo sguardo automaticamente su di voi è un po come fare questa cosa qui ciao ciao andiamo a vedere invece il quarto effetto di cui vi ho accennato precedentemente più di farvelo di spiegarvelo ve lo faccio vedere occhio questa è la nostra live precedente adesso però vedete che è stato evidenziato o meglio iniziato solo il primo degli argomenti ma poi posso andare avanti una volta spiegato facendo così 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 e andare avanti fino al sesto come vedete gli argomenti precedenti poi rimangono ma in sovraimpressione è un metodo molto molto importante molto facile da utilizzare per direzionare guardate se faccio su vado giù vedete il vostro sguardo segue automaticamente quello che decido io un po come i gatti che seguono la luce dell'asa sul muro quindi usatelo 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 e ricordo che questa era la slide da cui eravamo partiti quindi abbiamo fatto molta strada con questi piccoli quattro consigli la situazione è migliorata andiamo a vedere l'ultimo ed è il numero di elementi torniamo alla slide prima eccola qui a cui ho tolto un'immagine e ho messo nuovi alimenti sono tanti sì sono troppi quanti sono ve lo dico già io 11 per spiegarvi meglio questo punto però voglio fare un piccolo giochino con voi cercate di contare quanti pallini appariranno nella prossima slide 1 2 3 sono 11 e di solito voi dovreste aversi messo circa 2 secondi vediamo nella prossima 1 2 3 sono 7 e dovreste aversi messo circa 1,2 secondi quindi circa la metà e adesso vediamo nell'ultima avete fatto prezzo stavolta sì perché di solito ci si mette 0,2 secondi e perché ci si mette molto meno semplicemente tirando via due pallini su 7 perché prima contavate adesso vedete la differenza è sostanziale e quanti sono il numero di elementi che permettono di passare dal contare al vedere sono sei e quindi se voi cominciate a usare un massimo di sei elementi per ogni slide sapete che i vostri uditori il vostro pubblico farà sei volte meno fatica e capite che uno slide show abbastanza lungo questa cosa è un vantaggio enorme vi faccio vedere il risultato questa era la slide prima con 11 alimenti elementi e guardate con un massimo di 5 molto più leggera anche per la vostra mente guardate da qua a questa la vostra mente respira di sicuro e cosa vuol dire però alla fine voi mi direte prof ma se comincio ad usare massimo sei elementi devo dividere un massimo un messaggio per slide alla fine farò tante slide sì sì avete capito proprio bene avete esattamente colpito nel segno perché non saranno mai il numero di slide le cose importanti saranno il numero di elementi saranno il numero di messaggi che date soprattutto rapportato al tempo che avrete a disposizione per vostra presentazione lo so può capitare vi capitare in futuro che come è capitato a me alcuni organizzatori di eventi impongano che ci sia un numero limitato di slide già lì capirete che purtroppo quegli organizzatori non capiscono molto di presentazione e cercherete di farvi valere o al massimo cerchete di fare come ho fatto io spesso ho unito tutte le mie slide in un unico video l'ho messo in un unico slide che ho mandato all'organizzatore quando sono stato là ho cominciato a dare un play e ho stoppato ogni volta che c'era una slide all'interno del filmato ma gli estremi estremi rimedi comunque adesso sapete come fare non mi resta altro che fare un sommario finale per quello che riguarda tutto questo lungo video il primo il primo punto che mi ha visto la prima regola è quella di un messaggio per slide la seconda è quella di non far leggere far ascoltare contemporaneamente i vostri uditori il terzo messaggio è quello di gestire gli effetti visivi e contemporaneamente di usare il contrasto per direzionare lo sguardo e l'attenzione verso voi verso di voi le cose importanti e in fondo di utilizzare massimo sei elementi per slide non mi resta altro adesso che salutarvi darvi l'appuntamento al prossimo video che sarà molto più pratico perché vi farò vedere come ho lavorato per costruire alcune delle slide che avete visto in tutto questo butka ciao ciao